via partita iniziata porta azzurro stagno sesta del campionato mi sembra è vero si dovrebbe essere il pubblico conferma a posto stiamo a cavallo allora evitate l'imposte sensato poi a che silenzio bene che è successo becchi arrivano i ritardatari sugli spalti ecco ecco fuori fuori era quasi gollo quello a quelli venti ne hanno fatti tre quella insegnerà all'allievi all'allievi alfonso hanno detto che devi attaccare vieni che spirito che c'è oggi e rapini alfonso oltre il tetto delle case guardate pure i giocatori in campo ma spirito che dov'è non c'è spirito spirito è assente giustificato è rapini c'è ora lì ma senti male spirito ma come si ma la rovetta sbagliare no faccia così la spalla ma chi andrà ma la prende ma va bene ricominciamo stai vicino a lui però questo ma chi è grande imposta allo buongiorno impostazione il secondo pallone è nato al fosso però mi senti male è una guanta colpo una guanta dillo dillo che ci sta guardando una guanta colpo mamma mia che è fantassista quando li fanno dentere come me o portano terapia intensiva ecco questi sono i commenti molto qualificati del pubblico in tribuna ma a chi è riferito lo sa che intendo lo sanno quelli che ascoltano è il sabato con quell'altro discorso sì 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 ancora vuol sapere chi è il barbaglione ancora sarà un sconfettore dell'inverno chi è quello del barbaglione è gente che segue evidentemente però è già fa il nome no 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 però non sapere chi è e devono rimanere così noi lo sveleremo mai a fine campionata esatto giugno questo è il Berlusconi forte a giurezza cioè il missionario per aprire tutti i soldi però come il Berlusconi ma le casse le ha lasciate piene o vuote? abbastanza piene e allora tutto a posto il capitale abbiamo lasciato un applauso all'intratenno che ha lasciato la sedia dell'ex presidente storico del portatino o il vino ad hoc lasciate le notte oh sta in diretta eh ah in diretta oh se devi dire le cose dille in prima visione eh in eurovisione no 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 ecco mi fratello qui esatto ha lasciato la sedia per farci mettere a sedere l'ex presidente storico cine Guerino Rocco del portatino se volete applaudite no 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 è va bene l'applauso sanno che la gente vuole la pena Guerino è stato il presidente padre domani passo dalla pescheria è quello che lo preoppo qua ridateglielo il pallone a livello del bianco più c'è sul bianco prego il bianco si che vuol dire madonna che cazzata presa bravissimo il portiere portazzurro ha ipnotizzato l'attaccante di stagno l'asperice se sei in linea se sei in linea se ci porti tre piedi si oppure ma lui si regge in piedi oppure gli servono a lui ecco perché 35 e 4 di febbre sei estraiato 35 e 4 manchi i serpenti e 4 è un po' delicato è lui si è delicato non c'è tanto il potere andiamo vinto io la vi collego andiamo buon gioco nooo 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 ma tu fa il bar tu fa il bar dove è la bar lui è la diretta io sul bar ogni volta ogni volta ha difeso col corpo benissimo il pallone sulla tre quarti lancio su sta fermo che gli viene la comunità a bimbo a casa si eh si ma è lui 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 io hai mangiato da qua così si ha messi ho le farfalle sono provate è vero che passale xuh 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 x2 x5 x6 x2 x6 fa la caffettura bello bravo è stato tra poco non te la pari no guardo una presenza attesa che sei il capo dei pochi normali ecco, ecco il numero 22 ecco il numero 22 sale lentamente la tribuna e va a prendere il posto la cantina capolista la cantina capolista allora saluta a noi saluta a noi non vi vediamo nel mio ai 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 brava si claudio finita è finita meno male aspetta la guardo guardo nei catelli del spaziale sono una treta il paletto chiare e che è il paletto io ho giocato il 3 a 3 no ma dove dico qui il paletto si, qui ti ha detto qui a disposizione si, si, si va bene ti ha parecchio perché a pennavello non so ma se non si è una cazzo qua no ma il paletto ma il paletto ma il paletto è il paletto a morire no ci ha fatto male l'acqua a lungo eh allora noi ho mangiato oggi non è come quell'anno no quindi questo è questo ma questo ma no questo c'era che di chi mangiare no ma tutti le cattività tutti una mazza di la mera battono all'inizio ma quello come ti permette di fare commetti a Paolo è buono è buono è buono è buono è buono ma chi è questo quello Paolo non è scoccata la scintilla della decina eh ma pure c'era la base Paolo non ha mai offeso a nessuno ma è buono non ha mai ma spilberg è rimasto all'universal non è mai si è rotto c'era 35 e 4 tre 35 e 4 sì esattamente perché non c'è il deflettore non c'è il deflettore lui bravo 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 direi anche una cosa siete pure brutti con quel completo tutto lì no madonna che paura è così ecco 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 a scuola calcio anche i governi avete vinto 9 scuditi avete scuovato tanti pensa un po' anche ieri 5 in difesa che ne dovete non c'è squadra dice le rite e qualche forte di noi si sembra più freddo occhio a giudere non hai visto le bandiere le bandiere di scudotti non hai visto credevo Dio le fosse ativa eh bravo 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 Grazie a tutti. 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 C'è saggezza, capacità d'analisi. Sa caccia tattica è bella. A mappa. E' indiretto. A ieri sera ne è servito tanto. Io faccio tutto da soli. Se state buoni, se state buoni... Ci sono dei commenti alla stampa, ci sono dei commenti alla stampa. No, quello è un'ex dirigente all'ex dirigente all'ultimo. No, quello è un'ex dirigente all'ultimese, eh. Poi sono pensione a portare giù e ci siamo ugualiati. c'è anche a portare giù, c'è un'ex dirigente all'ex dirigente all'ex dirigente all'ex dirigente. Come eri? Allora, quanti fatti? Allora, quanti colori? Bravo per noi. Vanno poco trovato oggi. Non vanno facendo così. C'è un po' di diventare libero. Vanno poco trovato la maglia. Non i coricci. Si, cazzo, ti ha mantenuto la italiana a te. E' fuori gioco! E' fuori gioco! Qualche chilometri. Ma che secondo me è la linea? È la linea. Ma tu, è la linea? La linea. Dove che hanno fatto le linee lì? Quelle sono in traccia dell'acqua, ecco. Dove se le linee c'è? Sì, tranquillo! Ti puoi fare? Ciao, bravo. Oh, sì. Grazie. Con lei è resiliente. Ciao, bravo. No, non io ci sono. No, no. No, no. No, no. Grazie. 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 Ci siamo. Ci siamo. Oh. Siamo blovitati. Così. Siete finiti? Finiti? Senti. Siete finiti. Siete finiti? Sono finiti. Siete finiti. Vedalo, vedalo. Vedalo, vedalo. non siete usciti, le vanno mandare siete felici? eh, sì è il primo piano ma c'è il primo piano eh, grazie siete finiti Michele grazie che ti dico grande, ma ha detto quando vuoi chiedere da culo ha detto tremate grande ciao a voi la copiata di culo no senti tu senti tu ciao hai capito come ha detto a ticchio quando vuoi chiedere da culo se fate senti 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 ho detto a ticchio che quando vedete viene da culo con la città e qual è la città che va di calma la città dai go si 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 no 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 mano guarda che mi ha detto quando vedete me l'ha giusto tre mani noi arriviamo quarti a noi ci va bene quattro io ho detto quattro noi l'avevamo smusata a parte dell'infe non l'avevamo smusata a pallonati l'avevamo presa non l'avevamo smusata a parte dell'infezione a parte dell'infezione Dio breve. l'incenziale c'è Marotta c'è Marotta mi spiegate perché qua si vogliono c'è sta facendo una morte c'è una videocoria c'è una videocoria abbiamo abbiamo Caressa abbiamo Marotta abbiamo scuola per giusti quando vedi nera giù va niente a destra quando vedi nera giù niente noi arriviamo qua c'è voce capito da che stanno guarda 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 qui nel caspino poi c'è pia poi c'è spagno e cazzo pio e pio di poverino e padre pio andare io scendio ma la ragazza è persa che devi farlo non c'era Roberto c'era che ti ci confonde non diventare non diventare da sola e tira bravo io sto solo per portare giù è andata bene il commento tecnico è è andata bene è andata bene se la fai scurri se la fai scurri vai vai ti resumo mi dà ecco carica col corpo per più quando si vede me l'azzurro si ossa e a tiglio non ci sei a paura a paura a paura e a te ti calmo no te hai da te sì ma calmenti e calmenti non vedo me stai basso bravo sta zitto su piedi no ginocchiate ginocchiate è passito la gente non può capire no a fine campionato è pronto un video Stefano è abbastanza con le piante bravo hai ragione obbedire obbedire importante obbedire importante se c'è se c'è il tempo l'acqua è attento poi c'è un'altra non è un po' Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a 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 tutti.